Grazie all'attività di prevenzione e controllo della Guardia di Finanza di Napoli è stata individuata un'area nel comune di Torre Annunziata utilizzata come canile abusivo, all'interno della quale erano rinchiusi 11 cani. In particolare i finanziari del gruppo di Torre Annunziata hanno scoperto un'area all'interno della quale erano presenti numerosi animali chiusi dentro gabbie anguste e non idonei a garantirne il movimento in precarie condizioni di salute e sprovvisti dei previsti documenti di identificazione. Inoltre sono stati trovati anche medicinali per uso umano e medicinali per uso veterinario, tra i quali anche sostanze dopanti e psicotrope, il cui utilizzo improprio e la somministrazione incontrollata sono estremamente dannosi per la salute degli animali. I finanziari hanno richiesto così l'intervento del servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Asra Napoli 3 Sud, i cui medici hanno verificato lo stato di affaticamento degli animali ed hanno affidato gli stessi in custodia ad una struttura della zona. Al termine dell'attività sono stati sequestrati oltre gli animali 34 scatole di medicinali per uso umano e 52 per uso veterinario di libera vendita, ma in pessime condizioni di conservazione, due trasportini per cani, 16 gabbie ed un automezzo, mentre un 44enne di Torre Annunziata è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.